lezione d'arte ero 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 oggi abbiamo lezione di cresta speriamo che sia divertente come sarebbe dire che abbiamo lezione di cresta sei impazzito? ero ero tu ti confondi sempre più forza è ora di andare che confusione allora di cosa stavi parlando? di quella cosa che si impasta con le mani per creare delle forme differenti tu stai parlando della crete e della lezione d'arte certo della crete che cosa ho detto io? ma tu hai detto... vabbè è meglio se mi prendo un appunto dunque creta e non cresta ma cosa fai adesso? te lo dico più tardi ci vediamo a scuola non dirmi che hai confuso creta con cresta io l'ho sempre detto ero ero è davvero un tipo divertente sapete amici oggi durante la lezione d'arte faremo qualcosa di veramente carino con la creta io voglio fare qualcosa di bellissimo bene ero ero allora perché non lavoriamo insieme? certo Kira Kira io ho un bruttissimo presentimento anch'io allora bambini avete portato tutti la creta? sì bene adesso creerete qualcosa che vi piace davvero brava stai facendo un ottimo lavoro Kira Kira vede maestra è sempre stato il mio sogno vivere in un castello oh che sogno meraviglioso e tu Gheru Gheru dimmi cosa stai facendo di bello? una busta di plastica ah che sciocca avrei dovuto immaginarlo maestra questo lo faccio io ah ma con quegli occhiali non vedi niente non ti stanno neanche un gran che bene oh non vedo Yura Yura dov'è? Yura Yura è là sul soffitto oh signorina io ho fatto la tela di un ragno per amor del cielo è pericoloso siediti subito al tuo banco oh e tu non hai ancora incominciato io veramente ho già finito un ultimo ritocco ecco una magnifica scacchiera è bello che tutti i bambini hanno la stessa creatività mota mota tu non hai ancora deciso cosa fare? io sto ancora preparando la creta oh qualcuno vuole venire al mio posto? signora maestra io e Tametame abbiamo finito questo è per il riciclaggio dei rifiuti bravo hai fatto un bellissimo contenitore e il tuo è per caso un pacchetto per il latte? esatto è proprio così un pacchetto da riciclare e se provassi a fare qualcos'altro era Ero non un cartone riciclabile cosa ne pensa di questa? una lattina non è cartone riciclabile oh bambini sentite per lavorare la creta bisogna avere fantasia sviluppare idee nuove e poi creare va bene senti Ero Ero creare questi rifiuti riciclabili non è sufficiente hai ragione senti il riciclaggio va fatto come si deve fino in fondo ascolta è un'idea grandiosa ragazzi ci serve della creta ecco maestra è quasi finito oh e che qua oh ma questo è un mio spazzatura voi due avete preso la nostra creta in prestito per fare per fare questo oh non è possibile state veramente passando il segno che volete fare ancora ci serve altra creta per favore maestra per creare tutte le attrezzature per il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero bastarne circa 30 milioni di tonnellate siete dei pasticcioni lo abbiamo sempre saputo una lingua può essere difficile creta e cresta anche se sono simili hanno significati diversi e questo succede con moltissime altre parole ad esempio spina per il cellulare si usano le spine per ricaricarlo ma non queste spine un cellulare pieno di spine unge solo e non serve a niente e può farvi molto molto male dormire da soli ero ero ormai sei grande quindi da stasera dormirai da solo va bene non vi deluderò buonanotte ero ero sono un bravo bambino perciò d'ora in poi dormirò da solo bravo così si fa notte e sogni d'oro buonanotte ero ero buonanotte e adesso mi addormenterò come un ghilo non ci riesco non riesco a dormire senza i miei genitori sono qua cosa? papà che ti prende? sei uscito dalla stanza un minuto fa sì è vero sono uscito figliolo ma adesso sono tornato perché? beh ecco sì non riuscivo neanche io ad addormentarmi senza di te dici davvero? e se dormissimi insieme come prima? oh sarebbe fantastico assolutamente no come puoi pensare ad una cosa del genere adesso che finalmente ero ero ha deciso di dormire da solo ma io niente ma adesso esci subito da questa stanza e va bene vorrà dire che ci riproverò ancora una volta anche se mi sento solo cosa? ma in che posto mi trovo? ah ma quello è il mio amico leone selvatico quindi sono di nuovo nel regno degli animali però mi sembra così diverso dal solito signor leone c'è qualcosa che non va oh ciao ero ero vedi questo posto è diventato deprimente perché senti solo se sei triste anche noi lo siamo e che cosa posso fare per farvi stare meglio? non è molto difficile è sufficiente che tu stia bene che sia felice e a noi basta questo va bene allora penserò a qualcosa di bello stavo per mangiare un budino per merenda sono così triste ma non è così pensa a qualcosa di allegro sì è vero devo pensare a qualcosa di allegro stavo mangiando un budino ma questo non è affatto giusto questo è rapido non cambia niente mi dispiace devo pensare a qualcosa che mi renda davvero felice vediamo ci sono io sono al settimo cielo quando faccio nuove amicizie presentiamoci adesso che ci penso non conosco nemmeno il tuo nome ciao piacere sono il tuo nuovo amico Gao Gao viviamo tutti in libertà in agonia e felicità la mia famiglia è una giunga giochiamo insieme che gioia sembrano tutti contenti adesso grazie mille se siamo felici ora lo dobbiamo a te non dimenticare che non sarai mai solo e anche se ormai dormi per conto tuo noi veglieremo su di te grazie amici miei vediamo che riesce a saltare la stagionata fantastico uno, due, tre ohio che cosa succede Ero Ero non hai più sonno no stavo dormendo benissimo conta le pecorelle per riaddormentarti no non conterò le pecorelle perché ci sono già i miei amici animali a farmi compagnia amici animali? sì i miei amici animali selvatici credo di non aver capito comunque vai a dormire va bene devo pensare a qualcosa di bello prima di addormentarmi eh? se mi sento solo quando dormo allora anche i miei amici animali saranno tristi devo essere felice buonanotte mamma buonanotte papà sogni d'oro ero 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 fai nanna tanta nanna secondo me ancora pronto per dormire da solo animale nove amici animali dieci amici animali undici amici animali oh non riesco a dormire mi sono svegliato di nuovo salve io sono il titolare di questo negozio e mi chiamo Deru Deru il mio sogno è creare un prodotto di grande successo oggi ho il piacere di mostrarvene uno appena inventato il cellulare è comodissimo proprio perché possiamo portarlo in tasca io invece una macchina fotografica io una mini tv oh vedo che siamo nell'era del tascabile il genio Deru Deru non vi deluderà ed ora vi mostrerò la nostra nuova creazione si tratta di un prodotto pensato proprio per l'era del tascabile se lo comprerete risolverete tutti i problemi il suo nome è il favoloso cappotto dalla tasca larga non riesco a camminare ma perché non ha avuto successo Eroero non vuole dormire perché Eroero sta dormendo in questa scatola e non nel suo letto te lo spiego subito caro questa sera mamma sono le cinque ma io già sono allora va subito a dormire così diventerai molto alto quindi se uno dorme cresce certo è un antico proverbio e come diventerai se dormissi tutto il giorno cresceresti troppo diventeresti un gigante come un gigante santo cielo come sei cresciuto mamma la stanza è piccola non riesco a muovermi non farmi diventare un gigante non farmi diventare un gigante così adesso sai com'è andata ecco perché dorme in questa scatola diventerai un gigante certo i bambini crescono mentre dormono così ho dormito in una scatola perché non voglio diventare un gigante io invece voglio crescere in fretta perché da grande voglio fare la modella anche io da grande voglio fare il modello c'è qualcosa che non mi convince me l'ha detto la mia mamma stai tranquilla è tutto vero e va bene che ne dite di tuffarci nuotare un po' io entro quest'anno voglio prendere il brevetto di farfalla io preferisco il pesce fritto con i gamberetti non parliamo di cucina testone uffa ah no basta così ora vedrete all'opera un campione pronti partenza e via pirata sì è fantastico perfetto bravissimo bari bari avanti ghero ghero tocca a te aspetta che forza quel ghero ghero è vero nell'acqua sembra un altro guardate la sua mascherina è piena d'acqua perché non te la togli almeno quando nuoti adesso tocca aeroero bene e quello lo chiami nuotare? ma certo volete sapere il trucco questo movimento segreto ah smettila di farmi ridere sono proprio stanco dopo aver nuotato in quel modo attento se stai seduto potresti diventare un gigante perché? perché se non usi la testa il tuo corpo si addormenta d'ora in poi allora penserò sono a casa bentornata tesoro ma dov'eroero? dice che non vuole essere un gigante perciò userà il cervello e non dormirà eh però si è addormentato lo stesso non preoccuparti tesoro non diventerai un gigante papà vuole solo che tu cresca sano e forte e anche la mamma è proprio una notte tiepida e serena nella storia dei combattimenti esisteva una specialità che si chiamava lotta assoluta il campione di questo tipo di disciplina è ero 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 probabilmente il lottatore più forte mai esistito guerrieri benvenuti al campo di battaglia io sono il gran cerimoniere di questo epico scontro e mi presenterò più tardi mi auguro che vi battiate con tutte le vostre forze primo sconto ti conviene arrenderti subito colpo del buono pasto riso e curry piccante doppia l'azione e adesso ti darò il colpo di grazia no non ancora allora ne vuoi ancora eccoti servito specialità della casa maxi crocchette con salsa piccante non ti disturbare al servizio ci penso io ma ridami il piatto subito buon appetito sono io il più grande fatti la ciccione ero ero facciamo un picnic e adesso le previsioni del tempo secondo le previsioni nei prossimi giorni c'è lo sereno ah che bello papà domani forse c'è il sole a me non piacciono le previsioni non ti dicono mai se sarà bello o no ti resta sempre il dubbio e non riesco mai a dormire perché mi viene il batticolo ascolta perché non facciamo un picnic domani non lo so vediamo ero ero vai a letto è tardi su forza ti prego papà andiamo domani decideremo i bambini devono andare a dormire presto ma non è affatto giusto se io vado a letto mi perderò tutto il divertimento cosa? tanto lo so cosa avete in mente? e sentiamo un po' cosa avremo in mente di fare? volete costruire una bambolina portafortuna in modo che domani ci sia il bel tempo già è così hai indovinato adesso però vai a letto va bene un picnic fa sempre bene ero ero perché ci fa dimenticare per un po' le nostre preoccupazioni ehi papà cosa c'è figliolo? non dimenticarti di darmi la paghetta ascolta papà cosa c'è stavolta figliolo? perché non facciamo finta di essere al mare? oh sì bella idea wow che ne dici di una nuotata? sì ciao ero ero oh guarda c'è una medusa laggiù ciao che cosa ci fai? qui sei da solo? no con mio padre fingiamo di essere al mare oh no non può essere guarda laggiù sta arrivando un'onda grandissima prepara la tavola da surf ero ero sì ecco ci sono ero ero seguimi arrivo io ho fame papà che ne dici di smettere di andare a mangiare? sì sono d'accordo credo proprio sia ora di pranzo evviva oh guarda papà penso che tra un po' pioverà eh sì mangiamo i panini e appena finiamo di bere il succo di frutta ce ne torniamo a casa che sete che avevo oh sta piovendo va bene sbrighiamoci a finire è quasi finito vediamo è ancora tutto pieno non è possibile lo avevo bevuto oh no continua a piovere se non finiamo ci bagneremo è sempre pieno ah forza papà dobbiamo fare più in fretta oh no adesso sta spordando sarà sicuramente un nuovo tipo di succo di frutta uno di quelli che non finisce mai ha smesso di piovere approfittiamone per finire il succo di frutta finalmente ho finito ero ero anche io papà ne avete ancora per molto eh mamma ma tu che cosa stai facendo qui? sono venuta a cercarvi perché ero in ansia se la mamma fosse venuta prima avrebbe potuto assaggiare succo di frutta che non finisce mai è vero forse ne avremmo potuto lasciare un po' per noi non importa torniamo a casa ora esistono cose utili e quelle appartenenti al mondo di ero a ero alle prime due categorie sono note a tutti quindi vi farò degli esempi di quelle appartenenti alla terza categoria sono insolite ma non preoccupatevi noi ci siamo abituati c'è uno strano posto dove vendono del tè poi un ristorante dove si usa del sushi al posto dell'imbottitura per le sedie e infine abbiamo il taxi con il buco taxi ma cosa? questo era il taxi col buco che delizia